Quanti calabresi vivono all'estero? Moltissimi. Lasciano parenti e amici con l'intento di cercare fortuna in una terra straniera. Alcuni fanno ritorno, in tanti invece, avendo trovato quello che cercavano, si stabiliscono direttamente lì, andando ad incrementare quelle liste di italiani all'estero che godono degli stessi benefici dei loro connazionali rimasti in patria. A volte però succede che a fronte dell'usofrutto di privilegi e dello status di italiani non ricambiano temperando all'obbligo della denuncia di non essere più in possesso dei requisiti previsti della legge per ottenere determinate agevolazioni. È il caso di due coniugi stabilmente residenti in Argentina, dove si sono sposati oltre 50 anni fa, che hanno richiesto all'Inps l'erogazione della misura assistenziale dell'assegno sociale, sostenendo di essere ancora residenti in provincia di Vibovalet. Le indagini svolte dai finanziari della tenenza della Guardia di Finanza di Tropea, nell'ambito dei servizi a tutela della spesa pubblica nazionale, di contrasto delle frodi agli enti previdenziali e assistenziali, hanno invece rivelato che tornavano nel paese natio solo sporadicamente e per brevissimi periodi di tempo, e che quindi non erano più in possesso dei requisiti previsti per legge per l'erogazione della pensione, tra i quali è indispensabile la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Da qui la denuncia per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, per avere indebitamente percepito a decorrere dal 2006, la somma complessiva di circa 120.000 euro erogata dall'Inps a titolo di assegno sociale, denuncia la quale seguirà l'avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.